Magazzino barre automatico. F13 Bar, è dotata di uno speciale magazzino, che oltre al sostegno del fascio da lavorare, permette l'allineamento delle barre alla macchina, per una corretta fase di alimentazione. Il fascio viene posizionato sulle apposite catene di sostegno, e successivamente slegato. L'operatore, attraverso un selettore manuale, avvia l'azione di spostamento lateralmente delle barre, finché non risultano ben posizionate su tutta la larghezza del magazzino. A questo punto le barre sono svincolate tra di loro, e correttamente allineate alla macchina, permettendo la fase di alimentazione automatica.